Mattinata veramente di paura, stamattina verso le 6 e mezza si è avvertita in maniera forte questa scossa, mi stavo preparando per andare a lavorare e quindi questa scossa ha fatto riversare anche molta gente in strada perché si è sentita veramente e si è avvertita paura di un qualcosa di veramente brutto. Tutti a parlarne in strada e soprattutto le persone si vedevano visibilmente turbate di questi episodi che ultimamente pare che si stiano avendo una frequenza quasi ogni giorno, ma almeno con una frequenza di 2-3 a settimana si sentono questi episodi di terremoti o di altro. E quindi questa situazione un pochettino preoccupa soprattutto sapendo che abbiamo un vulcano qui alle nostre porte, visti immagini sui vari social e tutto questo desta in noi preoccupazione avendo un mostro che potrebbe svegliarsi da un momento all'altro.